L'Italia è il terzo paese più sicuro dell'Unione Europea nel 2022, dopo Norvegia e Svizzera. Negli ultimi 30 anni il calo degli omicidi in Italia è costante, da oltre 3.000 del 1990 a 309 del 2022. Ma è boom di reati commessi dai minori. Secondo i dati elaborati dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale, sulla base dell'indagine Istat, i minori denunciati e arrestati sono aumentati del 14,3%, con punte per alcuni tipi di reato. Abbiamo suddiviso in almeno 4 macroarie la criminalità giovanile, da quella che è vicina alla criminalità organizzata, a quella che invece è più espressione di forme di improvvisazione e di disagio. Crescono anche le violenze sessuali, di quasi il 16%. Furti e rapine in aumento nei primi 10 mesi dell'anno, più 18,2% rispetto allo stesso periodo del 2021. Mentre due truffe su tre vengono commesse online. È importante lavorare, evitare duplicazioni e lavorare in sinergia. 1.369 i latitanti catturati da gennaio a fine novembre 2022 in 64 paesi, 26 in più del 2021. Di questi, 654 erano latitanti ricercati dalle autorità giudiziarie italiane in 40 paesi.